Francamente non si può se non dire scandalosa perché sentire dire da un prefetto che dovrebbe lavorare per i cittadini di essere soddisfatto per essere riuscito a risolvere il problema immigrazione semplicemente piazzandolo in giro nei comuni dimenticandosi che ci sono cittadini italiani che terremotati sono ancora nei container dopo anni beh questo ci dice una cosa molto semplice, c'è gente che lavora oggi nello Stato che confonde gli scafisti con i cittadini proprio l'attore di lavoro con i criminali, questo è quello che ci fa molto arrabbiare noi prefetto Morcone diciamo una cosa molto semplice, non ci dimentichiamo di questi atteggiamenti e soprattutto quando arriverà il momento faremo piazza pulita anche di questi parassiti dello Stato